Esiste una differenza di genere tra l'uomo e la donna nell'arte? Per quanto riguarda il soggetto di un'opera artistica, senz'altro. Mentre per quanto riguarda l'artista, credo proprio di no, anche se probabilmente data la nostra sessualità, il nostro approccio può essere influenzato dalla nostra sessualità poi nell'esecuzione dell'opera. Io in generale ho stima per l'artista e la sua produzione, non mi faccio influenzare dal fatto che sia un uomo o una donna o altro.